E' quel Ma svolgo Ma 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 No ma sono me infatti Madonna mia Che cazzo di vine Lo devo buttare Lo devo spingere E' una cosa E' una cosa E' una cosa E' una cosa Andato E Chissulo Cazzo Seguro Chissulo Ah ecco, eccolo! Eh no, zio non c'è... Sì! Come siamo in ingresso al treno dei Dior? Io non sento i gameplay, ma non importa, non c'è bisogno di senti... Fra? Da, cosa è successo? Ma che cazzo di bopo! Da, ma è crasha però sto cazzo, ma che cazzo è successo? C'è un forziere, c'è un forziere a destra, un forziere! Ho visto, infatti. No, dopo mezz'ora l'hai visto. Sanz! Io non c'è giù l'ho fatto, eh! Sì, sì! Allora... sei sicuro di volerlo fare no 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 ma che portali ci sono dei serpenti sali sulle seggie non ti pigliano zio dove siamo finiti zio zio il mio nome è cristiano ronaldi ragazzi c'è un bagno aperto che cazzo ronaldi ronaldi cristiano zio ma dove siamo ma che ne so zio ma c'è questa nuova di noi guarda oh è vero che ci vuoi uccidere ti faccio male zio lo sto uccidendo ti facciamo male ma che cosa è morto torna attacco di cuore sull'aereo beh tutti quanti sono andati via io tengo ancora il posto del ticket il posto del ticket ti do io intanto lo sto calpestando ehm prendo fuoco eh aiuto no ma non stiamo perdendo ah ci ha messo la scia che brava persona hai trovato il finale segreto finale segreto what the fuck zio ragazzi il video di oggi finisce qua spero che se la faccio va bene no no in aria tutto vieni corri 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 cosa c'è cosa c'è guarda la finestra da me maronna mi quanto è brutto qualcuno della scorsa volta ragazzi guardate ma l'ho visto l'ho visto io non dove andremo a questo non lo so ok come potete vedere ragazzi iniziamo suicidandosi ma io mi posto che sto camminando vuoto frate ma tu mi vedi seduto vero zio ma tu stai camminando nella sedia aspetta ecco giorno 2 ti è piaciuto questo primo giorno la minchia zio ci sono persone la guarda ci sono delle persone la ma li vedi chi sono sono dei sono i miei genitori i miei genitori ah capisco che hai portato i marcevello ehhh me li sto scordati a casa però se vuoi ho portato i gelati di topolino eh però se vuoi ho portato i gelati di topolino e chi è scappo che c'è ah ok meno male io non me la ricordo per niente se non la vita ma forse non ce n'è anche mai giocato l'ho solo visto in un video beh ma it was at this moment that he knew he fucked up oh bocca putt run si è visto si è visto cos'era quella cosa e non lo so sei pronto per questa avventura fantastica? dai veloce si si mamma mia oh che sudata uomo crash mamma mia vediamo il finale vediamo il finale ma c'è un agente bello c'è ma è Kratos guardano in faccia ma è Kratos guardano in faccia c'è i segni rossi ma infatti e poi la pelle è bianca è Kratos ma è Kratos ma è Kratos ma è Kratos ma è Kratos scappa 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 siamo al sicuro ora no no beh ma minca se voli giù non siamo ancora si il piano lo sapevo ragazzi si presidente ha ragazzo un porfiere del presidente volevo è bellissimo guarda non è possibile ma non è possibile aspetta un attimo san se tagliamo questa parte il problema è dove è l'uscita occhio mettiti prima nei lati tu proprio vai 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 in giro proprio se ti beccano amen oggi abbiamo fatto questa intro perché lui sta sopra di me abbiamo fatto la intro tipo a power ranger perché sono esatto l'ho decisa io allora che dici di avventurarci un po' in queste backrooms altrimenti troveremo shrek il problema è che dove andiamo qua dietro il problema sono andato troppo veloce aiuto è vero mi hai visto è vero oh my god il porco zio di un porco zio non mi salta aiuto sei che ti amato qua aiuto ma perché mi chiamo da che a polizia è porco oggi oggi aiuto 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 polizia 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 aiuto io sto una schereta questa mincezza aiuto ma fai la mia quattro di quella no attaccami una volta dai non ti attacco non ti attacco io fai ti attacco che so oddio mica si trova un po' e ti giuro ti becco non lo prendo qua pinca polizia questo coglione mi è arrivata una schereta da ma ma no 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 adesso patto il culo patto il culo patto il culo ditto di doyallo signori ecco vai 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 ! evangelio . eccoti qua 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 vieni con me vieni con me andiamoci dall'isola No, è un tizio azzurro, è un tizio azzurro. Tizio, 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 perché ce la porti qua? No, zio! Vieni! Non scappa, non ti vedo! Zio, io ho trovato una stanza segretissima. Oh, Dio! Zio! Aiuto! Sei Babbo Natale di merda! È Babbo Natale? Sì, quella merda piccolina! È un Babbo Natale! Zio! Aiuto! Stai rubando la sedia! Sono dietro di te, sono dietro di te, vieni! Aiuto! Sono qua, sono qua. Nasconditi, nasconditi qua, vieni qua. Vieni come ho trovato una cosa segreta. La stanza non c'è lui! Che significa che c'è lui? Invece... Zio, sono morto malamente! Sto scappando! Aiuto! Ma è la seconda volta che poi lui è impostore? Mi chiedono nascosto! Zio, guarda che questo mi ha preso dalla parete! Ma porca di quella! Quello quello! No! Ma va... Sei morto? Sì! L'assassino ha vinto! Madonna Sanzi, però fai schifo come sceriffo! Eh, guarda zio! Virai con la pistola! Non è proprio semplice! Sì! Ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video! Ci siamo tornati con Epic Summer! Saluta! Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Allora la prossima volta lei deve stare un pochettino calmo innanzitutto! Allora spiega oggi cosa facciamo? Scopriremo chi è l'impostore! Sparte non siamo su Among Us! Cosa facciamo oggi? Scopriremo chi è l'impostore! Vabbè lo... Dai! Girati! Mi sono cagato addosso! Cosa è questo? Che è uno scheletto gigante! Non fermerai questo fatto! Lucia! Apri! Aprite! 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 Cuoriamo tutti! Ma che facciamo? Abbiamo solo una possibilità! Poncio che balla! Poncio che balla! Ma sta a ballare! Guardalo! Quando c'hai robots puoi responare? Vai vai vai! Hai visto? La potenza del maestro! Se volavi giù era bellissimo! Se volavi giù era bellissimo! E niente! Eeeh mamma mia! Não! Algo pop! Arpa e i che andiamo! Ehi non ci siamo andati subito! Ah c'è è sempre un antico! Ehi non ci stai inserendo... Ehi non ci stai inserendo! Le mec... non posso andare manca avanti perché ci stanno i dialoghi non posso andare manca avanti perché ci stanno i dialoghi ancora è la madonna perfetto ok ok e dai e sono nico perfetto è morto dai è morto via 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 vai bro bravo che cosa è successo via 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 ma c'è anche il ciuchino dietro di noi aiuto zio sono sopravvissuto zio sono dentro un'asta zio aiuto aiuto ma dove sei? non lo so ma come non lo sai? aiuto ma non è brutto aspetta un attimo sansa tagliamo questa parte il problema è dove è l'uscita? eh occhio mettiti prima nei lati tu proprio vai 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 in giro proprio se ti beccano amen oggi abbiamo fatto questa intro perché lui sta sopra di me abbiamo fatto la intro tipo a power ranger esatto l'ho decisa io allora che dici di avventurarci un po' in queste back rooms? altrimenti troveremo Shrek il problema è che dove andiamo qua dietro? il problema sto andando troppo veloce aiuto oh my god il porco zio di un porco zio non è che dove andiamo qua? non è che dove andiamo qua? non è che dove andiamo qua? è che dove andiamo qua? ok ora è che dove andiamo qua? no attaccami una volta non ti attacco io fai oddio non lo prendo qua polizia mi cazzo è questo coglione mi è arrivato da spero no no adesso fai il culo fai il culo fai il culo ecco vai 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 zio zio non ci provate zio non ci provate zio non ci provate eccoti qua 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 vieni con me vieni con me Vieni! Fa scappa! Fa scappa! Non ti fai fai! Zio io ho trovato una stanza segretissima! Oddio! Zio? Aiuto! E sei Babbo Natale di merda! E' Babbo Natale? Si quella merda piccolina! E' un Babbo Natale! Zio! Aiuto! Mi sta ingruppando la sedia! Fa sono dietro di te! Sono dietro di te! Vieni! Aiuto! Fa sono qua! Nasconditi! Nasconditi qua! Vieni qua! Ah vieni come ho trovato una cosa segreta! La stanza non c'è lui! Che significa che c'è lui? Zio sono morto malamente! Dove sto scappando? Aiuto! Ma è la seconda volta che poi lui è impostore? Mi chiedono nascosto! Zio guarda che questo mi ha preso dalla parete! Ma porca di quella! Quello quello! No! Ma va! Sei morto? Si! L'assassino ha vinto! Madonna sanzi! Però fai schifo come sceriffo! Eh! Guarda zio! Via ecco la pistola! Non è proprio semplice! Grazie e benvenuti in questo nuovissimo video! Ci siamo tornati con Epic Summer! Saluta! Ciao a tutti ragazzi! Sono morto! Allora la prossima volta lei deve stare un pochettino calmo innanzitutto! Allora spiega oggi cosa facciamo? Oggi! Scopriremo chi è l'impostore! Vabbè lo- Miche! Ma guarda i nostri... Infatti perché c'è un poncho anche dall'altra paste! Ci sono due poncho! Ma fai c'è nel finestrino! Guarda davanti! Guarda davanti che stanno i piloti! Poncio che balla Poncio che balla Ma sta a ballare Guardalo Andrò c'è i robots Puoi responare Vai 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 Hai visto? La potenza del maestro Se volavi giù era bellissimo E niente Mamma mia No ragazzi qua c'ho paura Questa è inizio E' proprio potente E lo so visto Od Aiuto Eh Eh si vabbè Sì Matt Dopodomani Questa c'è l'ora E se muovere lo schermo Questa c'è l'ora Ok Ah è poi l'è mixato Eh No no Eh Allora Matt Iniziamo subito Io quanto so forte 3, 2, 1 Oddio 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 Matt Oddio che è? E che è i begli effetti Belli Minchia E la madonna Mamma mia Stai proprio Stai troppo Gasato Eh Se lo parlo Non mi piace Ok Minchia Questi sono effetti Non ho mai visto Vedendo Su se c'è l'unico Di una moggetta Merce Oddio Guarda E la madonna Eh Ma che cosa sto vedendo Oddio Oddio Vado a fa matta La macchia sempre Ma lo vedo Inutile che cosa Appaissima Ma è stato Permanente Permanente Eh Se No Apri la cartella Sulla tua scrivania Ok Eh Eh Se dici no Vedete È semplicissimo Signor Ma Ma Che ci vuole 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 Meno male Meno male Meno male Aaaaaa Che sta facendo così Che si è visto Che si è visto Allora Non sto capendo qualcosa Io sono ignorante Ma voi Che chiedete Ragazzi mi pare che mi metta anche con le poste chiuse Crap dude You got some Pretty tight bars Anyways Why are you here? Eeeeee Ehehehe Hi how are you? What the fu Shut No Cry about it Ok Why do I Why do I sound like a me Warning Oh crap This is a really long race I had a good job Until my boss Is this being a steal I better call Saul I was minding my own business Until You are under arrest I better call Saul Hi I'm Saul Goodman Did you deny you a race? The constitution says you do So do I I believe Until proven guilty That a man more than child In this country Is innocent And that's why I fight for you Albuquerque Before the video starts I would like to say What the I don't know Niente Non so Niente Rayleigh Se stai leggendo Questo messaggio Significa che sei un coglione Ok perfetto Della solita stanzetta Ma orna Quante brutta sta bambola Piliamo il coso Lo mettiamo Eeeh Ah che bello Guardiamoci sto bel cazzo And I'm Wooly Today we're going to make an apple pie My favorite is peach pie Torta preferita scrivi Effetta scrivi speedrunner Come torta preferita Mmm that sounds too listening Today we're going to make I'm Wooly Grazie a tutti Se non ti offendi Sei libero di andare per conto tu E' solo che sei cresciuto più velocemente del previsto Stai dicendo che ti ho superato? Non esagerare Ci vorrà un po' per abituarsi ma... Ti auguro di raggiungere nuove metri, socio No, dai, se ti mani, non può funzionare No, dai, se ti mani Ehi, aiuto! Ehi, aiuto! 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 Oh, 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 aiuto! Aiuto! Oh, oh, oddio Ehi, poca storia Ehi, poca storia Potte di vita! Certo, sì Non è strana Ehi, ahi Ehi, ahi Questo lato. Eh! Tasso, eh! Eh! Osvaldo! Te sentono al cancio Gabriele, sento. No, io la metterò nel vino perché non sento una sega. Eh! 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 Che cazzo è? Che cazzo è? Pur form! Pur form! Pur form! Ma che cazzo è? Porca cazzo toia! Cazzo è il regno di Frozen, è fredda! No! Come? Eeeh! Allora eh! Eeeh! Pris, che ne so? Corpse! Corpse! Che ne so? Corpse! Che dice questo? Sì! Sì! Mamma mia! Non c'è niente! P***! Cazzo è il reggisario, tra di subito! Ah? Cazzo è il reggisario, cazzo è il reggisario! P***! Ho detto che tu scende il reggisario, ce n'ho raggeda! P*****! Gia si spinge! P***! Non so come devo fare! È il reggisario! P***! non posso andare manca avanti perchè ci sono i dialoghi i spenn uncontrolli C'è stato chiuso La fronte C'è stato chiuso non posso andare in sottotitolo ma non basta non ci sono ma non ci sono ma non ci sono Già presso ma non ci sono Ma non ci sono ma non ci sono ma non ci sono non ci sono ma non ci sono Ancora È la madonna Perfetto Dai 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 Ok Eh dai Sonic Sonic Perfetto 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 Ancora Ancora Via 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 Vai Probravo Che cos'è successo Probravo PC Vieni Vieni Perfetto Vai Prende la network Ah Gli P***** Poca riguardato la bocca riguardato hai un po' Si non c'è un problema io sono su un'armadietto Bocca 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 Quanti cabbo sono? Quanti cabbo sono? Quanti sono? Quanti c***o? Corri c***o in poca puttata Ci sono tutti Aiuto gioco Porca di quella Ma ma c'è anche ciuchino dietro di noi Porca di quella Aiuto Sono giusto Zio Zio sono sopravvissuto aiuto Zio sono dentro un'asta Zio Zio Aiuto Aiuto Mi sento sceco di dire Oh hello dad Zio aiutami Ma dove sei? Non lo so Ma come non lo sai? Aiuto E ai Zio Ma non è quanto è brutto Qua Aspetta un attimo Sanse Tagliamo questa parte Il problema è dove è l'uscita? Occhio Mettiti prima nei lati Tu proprio vai 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 in giro Proprio se ti beccano Amen Grazie a tutti quanti per aver visto il video Vi ricordo di iscrivervi Di lasciare like Di attivare la campanellina Per essere aggiornati Su tutti i miei video Ciao Ciao